buongiorno buongiorno ragazzi sono Mike senza nome e quest'oggi vi porto un episodio speciale di Mudrunner Spin Tires ebbene si perchè dopo le sfide iniziamo a farle sul serio quindi quest'oggi abbiamo un esperto di troncologia lui è un esperto nel trasporto dei tronchi questo vuol dire troncologia è molto bravo con gli alberi e quindi diamo il benvenuto a Pebs buongiorno mi piace questo buongiorno che sembra che stai per rigurgitare quello che è appena comunque va bene allora abbiamo dei mezzi particolari abbiamo un super camionozzo là in fondo abbiamo degli Uaz perchè tutti i mezzi russi da queste parti e poi abbiamo quel camion sfigato il B130 che Pebs in quanto esperto di alberologia ha scelto comunque per prima cosa stiamo facendo una esplorazione di questa mappa che è litorale e potete vedere che il nostro obiettivo primario è andare a sbloccare il garage là in alto e sbloccare il C375 dopodiché andremo a fare il giro di tutti questi punti di osservazione ne abbiamo 4-5 punti di osservazione e infine porteremo il legname non so quanto ci metteremo ovviamente però intanto pepsone vai avanti con il nostro bolide questo mezzo qua è una mod ed è una gran figata secondo me ammestiamo è la modalità veterana quindi dobbiamo mettere le marce per il blocco differenziale ah giusto ecco le marce esatto perché se no era troppo semplice abbiamo anche il rimorchietto e hai idea di dove stai andando Pebs? eeeh forse si perché se stai seguendo qualcosa lì stai andando al punto di osservazione eeeh si punto di osservazione e poi garage ah tu vuoi il garage quello vicino io dicevo il garage quello in alto ma vabbè tranquilli ci siamo in qualche modo ci capiamo anche perché entrambi stiamo trasportando due punti garage quindi ma questo coso ce l'ha il visuale da dentro? si ce l'ha è una mod veramente figherima secondo me questa strada ci farà del male si ma anche secondo me anche perché tipo è dritta per dritta io avrei fatto una strada più che segue la strada però tranquilli eeeh ok possiamo partire è già finito? no se non lo so vedi in che posizione strana non è il mio coso si vedo il tuo coso forse io riesco a superare la collina forse e quest'albero mi sa che era più da fare tipo la strada ah ce la faremo però guarda come si si impenna strano sto camioncino non so perché perché oh vai che ci siamo che cazzo sono sopra un albero e gli alberi sono un giugno di quelli forte cioè non so io li bloccano faremo i viaggi in due perché in due di sicuro ci aiuteremo oh cazzo ho ancora visuale da dentro continuo a fare click sulla cabina abbiamo il verricello qui abbiamo tutto abbiamo questo è un mezzo di quelli estremi potenti cioè non si vede non si ferma più nessuno possiamo pure dormire qua dentro volendo secondo me questa pozzanghera mi butto con la 1 più verso quell'albero lì però perché almeno e ci rimango quello 1 più non è una grande idea perché non ho tanta voce per il dato pericolosi dai bello guarda il domino come si sfoga dentro peps io seguo te lui è il nostro troncone principale si andiamo io guardo solo acqua cos'è che vedi solo acqua ma noi non abbiamo delle barche peps abbiamo dei cordoni guarda c'è un piume bello grosso secondo me qua non ce la facciamo abbiamo preso poi il zil il zil veramente è un camion di quelli qua parte la nostra prima figura di merda allora facciamo così io ho visto come si fa facciamo il coso di traino accetta il mio traino accettiamo il traino e adesso tu vai praticamente così se parte la corrente e ti trascina via insomma siamo legati hai capito? io vado in seconda è bello profondo guarda guarda è sparito peps e adesso io ti spingo è a questo che serve mamma che esperti dai bello tira fuori il rimorchio vai adesso devi tirare su ci fermerà devi tirare su me ho visto questa cosa in una delle sfide ancora altro fiume altro altro fiume altro fiume altro pozzanghera poi parte l'autostrada fangosa ma è bello guarda che bella spinta che ti do come si fanno in realtà ti sto sfasciando il rimorchio ma intanto stai andando avanti che ne stai facendo? sì no perché questi sono mezzi russi e non ci vuole tanto per distruggere ma perché non hai tagliato in mezzo a sinistra in mezzo agli alberi tipo no no niente non mettete in dubbio stiamo abusando di questi camioncini non mettete in dubbio la potenza di peps per favore perché lui ah qua c'è la strada ti puoi staccare ma tipo ma quante ore hai su spin tires tu perché diciamo è un grande esperto ne hai fatte mille le duemila sì più o meno è un grande esperto lui cioè perché noi giochiamo solo con i migliori hai visto qua che ti ho portato sulla stradina sì che bello adesso però se non ricordo male da quella prova fatta nel 2004 quando giocavo ancora la spin tires la versione primaria il punto di osservazione è qua davanti da qualche parte giusto? sì perché c'è anche quello da qualche parte qua allora i problemi è qua a destra il punto di osservazione da pepsone eh sì ma ci sta una fitta boscaglia e deforestiamo deforestiamo io vado a deforestare allora tanto la stradina qui curva io taglio per il ah ok taglia vabbè stesso adesso non c'è una cosa a casaccio ma che ti ho perso non te ne andate sì perché tu stai accelerando con un dannato vedi? io ho seguito il sentiero e sono arrivato al punto prima sì premo premo eccolo qui peps ha raggiunto il punto di osservazione bravo peps bravo peps purtroppo i problemi multiplayer di questo titolo sono il fatto che uno non sento i suoni di quell'altro e due non si vedono le luci di quell'altro e ricorda di sbloccare il blocco differenziale cioè di togliere il blocco differenziale sì tolto tolto sono un esperto perché sto arrivando da te che cazzo vai tranquillo che cazzo ci fai dietro? tra l'altro sono mezzo inclinato quindi dammi anche tu una botta che almeno quindi andiamo a questo garage vicino? esatto dove c'è la salita quella bella che ti piace tanto a te sto mettendo il tragitto ah ok 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 sì perché questa mappa l'avevamo già già provata così giusto per giusto per vedere la modalità super mega veterano noi siamo dei grandi veterani vero peps? eh certo stai andando dove cacchio stai andando peps sulla collina? sì questo mezzo va da tutte le parti va 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 ok dove è che va quel mezzo? non ti puoi legare tipo l'albero no? sì e poi vediamo col verricello no non c'è quello automatico non così ok non ti devo trainare così adesso 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 mi sa che ti ribalti tu no non è possibile allora attacchiamoci al rimorchio attacchiamoci a peps eeeh oh mio dio aspetta che avvio il motore peps danni 88 che achievement è? diventa uno stuntman dai che ci diamo ti stai messo sopra il tuo rimorchio praticamente oh mio dio ma ci ho distrutto tutto il finestrino come cazzo ti faccio aspetta che si sta avviando il motore tirami 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 sto infangando peps sto infangando questo è un inizio difficile aspetta ti mollo perché mi do oh mio dio guarda il mio rimorchio io ho spaccato oddio ho spaccato mezzo furgoncino cazzo allora peps resta lì respira resisti ok io devo fare manovra li abbiamo la mappa ma stai scherzando noi siamo veterani peps che esempio dai alla gente vai su modalità avanzata intanto peps ah adesso c'ho il verricello forse si ma la parte lascia stare il verricello vai su modalità avanzata ah ah stacca rimorchio poi lo voglio recuperare eh vabbè è normale anche io lo voglio recuperare infatti lo sto lasciando qua perché senza rimorchio magari riesco anche a muovermi più facilmente adesso ce la faremo il problema è come addirizziamo con i rimorchi non c'è nessun problema non c'è nessun problema come ha detto un grande saggio finché hai modo di sistemarlo non c'è problema esatto eccoci qua vieni avanti bravo adesso smetti di farlo scroppone mamma mia ebbè adesso sei tu che devi devi andare tipo verso di qua e tirarti sul rimorchetto una cosa odiosa di questo gioco è la telecamera si ma basta di pre... oh eh 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 oh oh piano ho due ruote per aria pepsi dobbiamo essere qui ad alzarci a vicenda che cazzo siano delle tartarughe ecco tu vedi come ho sfondato praticamente la parte dietro del mio furgone vuoi vedere no il tuo furgone lo vedo nuovissimo ah ok beh eh eh c'è il multiplayer non condividiamo nulla se non è un furgone nuovo che cammina è un clacson e basta eh 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 il problema è che qua c'è una bruttissima fanghiglia lo so bello lo so ma così come ho fatto io manovra ce la farai anche tu cioè che dai su sei l'esperto dei boschi tu ti ho presentato come l'esperto dei boschi dimostra che tale l'esperto dei tronchi hai detto adesso noi non abbiamo tronchi quindi mi sento troppo leggero mi avventuro in questa robaccia qui capito ma che cazzo stai facendo? hai intenzione di trainare il rimorchio storto? che se ne fai vai così a parte che vabbè io lo vedo trasparente però non so quanto riusci a andare secondo me se lo riesco a buttarci per la collina sadrizzo facciamo metodi naturali vedi che piano piano ce la faremo si ci siamo fantastico bene il mio uomino sta intanto guardando fuori dal buco che abbiamo fatto nella portiera quindi tranqui riprendiamo il tragitto riprendiamo il cammino perché sarà lungo ad arrivare a questo garage cioè veramente perché da dove andiamo andiamo da? sei tu l'esperto del tragitto non io che cazzo stiamo facendo? ma che tristezza è questa ma perché? ci stiamo scavando alla fossa ma c'era un cosa cazzo sta facendo il mio furgone? c'era un percorso così facile ma sono su un albero uno di quelli piccoli guarda è tutta roccia sto percorso ma che cazzo sta facendo? ci sono un po' troppe pietre qua tu vuoi prendere con le pietre? io ce l'ho con un alberello che è più piccolo della mia macchina intanto non ce la faccio superarlo niente nessun problema ci attacchiamo all'albero maestro devi insistere ah in giusto il berricello di merda c'è un alberello che non si riesce a buttare giù è incredibile vai pepsone che stai facendo traffico sei l'esperto ma ma qua c'è qualche tasto in particolare per il berricello? si basta premire F ci sta andando? devo evitare ste stupide rocce ah mettiamola uno più mamma che scatofelino che è una corsa no non è una corsa è che volevo cercare di non vedo niente davanti comunque che bruttissima strada che stiamo facendo però stiamo guarda guarda mamma 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 con la uno più pepsone stiamo facendo i miracoli non so se la strada è giusta perché non sto guardando neanche davanti dove sto guardando si 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 stai seguendo la retta via ah si guarda arriviamo nel oh oh via uccelli via che arriva la notte non si vede più un tubo ah uccelli bene non si vede più un tubo e adesso arriva la salita si ciao beppi luogo differenziale partiamo con la super mega oh cazzo dai bello su si ok no 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 lo stai facendo? no 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 Sto rimorchio in cima pepsi poi arriva a salvarti dai aspetto qui fedele Ma ma la 1 o più non so che mi ha suggerito di metterla 1 o più sulle salite ma ma guarda che meraviglia guarda con che potenza È incredibile persone è incredibile c'è la 1 o 2 è un miracoloso Credo che faccio entrare sto caso di cosa va dentro che Lasciamo Due punti garage abbiamo scaricati almeno questi e sto arrivando da te Forse ma stanno andando avanti col freno a mano c'è anche un achievement per andare avanti col freno a mano torna in retro Ma che in retro in retro? Retro per i deboli Il tuo furgone fantasma Mi metti come una tartaruga? No mi ribalto anch'io Stai lì che mi appoggio, stai lì che mi appoggio Ecco così Così E adesso ti traino Vai bello, tira Io comunque darò il mello quando avrò il camion dei tronchi Ah sì, non hai visto che cazzo di camion dei tronchi che abbiamo preso ma Per due punti garage, cazzo, ma perché ti sto portando in giro? Infatti mi stai girando Dai 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 che ci siamo, dai che ci siamo Stupido rimorchi Avvia il motore Sì, eccoci qua Tira amico, si intrizziamo pure lo stupido No Mamamam Sì Sei in piedi perché io c'ho i miei fari e non vedo un cazzo Faccio prima spegnere i fari Buongiorno garage Ok, adesso posso dirlo Bene, bene, sei arrivato? Sì Hai consegnato i punti garage Lo faccio in questo momento Scarica Ok, abbiamo un garage Benissimo, fantastico Adesso fammi arrivare là in cima Perché adesso Essenzialmente A parte il fatto che possiamo riparare i furgoncini Ma possiamo anche prendere Un altro stupido rimorchio Per andare a sbloccare l'altro garage Ah, quindi il viaggio con questi cosini continua Evviva Beh, se vuoi Nel senso Eh certo Una volta dovremmo farlo prima o poi Andiamo a un altro stupido garage Amen Eccoti qua Prendiamo un camion con i cosi, capito? No, no, no Ormai mi sono affezionato a questo stupido Rimorchio Questo stupido ribaltone La sfida è rimanere sulle quattro ruote piantate per terra Dai, andiamo Bene Ma direi che intanto concludiamo questo primo episodio della nostra super mega avventura Adesso il prossimo avventuroso momento sarà quando andiamo al punto di osservazione lì E poi verso l'altro garage così sblocchiamo tutto E quindi pepsone ti ringrazio per la compagnia e ci vediamo al prossimo episodio Promettiamo di non ribaltarci tanto e di farvi divertire di Ma pepsone, ma che cazzo ti ribalterà giù da sta discesa praticamente Abbiamo fatto vedere niente agli amici a casa Niente, niente Devono ancora vedere il meglio Questo è quello che temo 200 metri di strada gli abbiamo fatto vedere Che schifo Adesso ne abbiamo 600 quindi immaginate Beh, al prossimo episodio In 5 episodi ce la facciamo Ciao Ciao ciao